Buongiorno e benvenuto al castello. Vi illustro un po' l'itinerario per la visita al castello di oggi, ingresso alla cattedrale che risale dell'832 dedicata alla Madonna della Santissima Trinità, poi campanile del 1100 del Ducaro di Amalfi, dove oggi si possono ancora ammirare i simboli del Ducaro di Amalfi, tra cui la croce e la stella, poi dopo l'itinerario per visitare all'interno dell'area dell'abitato, la torre del decimo secolo, i giardini molto belli di tutt'ora da poco, e poi all'interno del castello della parte Nord, tra cui si può ammirare tutto il Golfo di Napoli con il Vesuvio, un bel panorama, e poi all'interno del Maschio c'è un'esercizio di castello. Grazie. Grazie.